se abiti in periferia e organizzi una cena tra i tuoi ospiti potrebbe capitarti irrisoluto arriva e all'affanno non si sa perché ma l'affanno noi abitiamo a pian terreno ma lui ha l'affanno come se avesse fatto quattro scale a piedi e pure di corsa all'affanno arriva si appoggia allo stile della porta e guarda se molto lo dico questa è l'ultima volta che vengo però non è l'ultima volta che vengo perché è un viaggio venire qui e voi abitate lontano la prossima volta venite voi abitate troppo lontano ma veniamo sempre noi al centro ma è la stessa cosa come la stessa cosa ma stai scherzando stessa cosa venire dal centro alla periferia e dalla periferia al centro ma stai a scherzando voi quando dalla periferia venire al centro andate verso la grande bellezza verso verso la meraviglia verso un momento onirico capito e quindi arrivate così noi qua è come come viaggiare contro il sarmone il sarmone che viaggia contro l'entra è uguale che sappiamo dove dobbiamo venire lo sfagelo l'abbandono la sozzeria è una cosa terribile è l'ultima volta che è la rossiorta venite voi